So di non essere un normale bambino di dieci anni, ma in fondo forse è proprio questo il punto. Nessuno è normale. Oggy non può cambiare il suo aspetto. Forse noi possiamo cambiare il nostro sguardo. Raccontami di questa nuova scuola. Cerco di ambientarmi. Sì, proprio da quando ho lasciato la mia vecchia scuola. Julian, tu non hai lasciato la tua vecchia scuola. Sei stato espulso. Sei stato crudele con un altro bambino. Sono sicura che tuo padre ti ha raccontato di quando ero ragazzina. Dice che non ti piace parlarne. È vero. Ma adesso penso che, per il tuo bene, dovrò farlo. Scusami. Oh no, che cosa vuole? Lo hai lasciato in classi. Grazie. Figurati. Non sapevo nemmeno il suo nome. Ma avevamo in comune una cosa fondamentale. Sono molto belli. Per un ebreo. Avevamo visto entrambi di quanto odio sono capaci le persone. E quanto coraggio ci voleva per essere gentili. Trovateli! Devi venire con me adesso. So come salvarci. Nei momenti più bui, le piccole cose ci ricordano la nostra umanità. Ti piacerebbe vedere New York stasera? Certo. Apri gli occhi. Il mondo della realtà ha i suoi limiti. Quello dell'immaginazione non conosce confini. Non c'è persona più coraggiosa di te. Puoi dimenticare tante cose nella vita, ma non dimenticare mai la gentilezza. Com'è l'amore farà parte di te per sempre. Grazie mille. No. 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 Grazie a tutti